Antonio finisce tutto, la vita è fatta di cose che capitano così all'improvviso e puff, puff, finiscono anche le cose belle. Antonio voi due siete sempre stati un punto di riferimento. Ci hanno fatto la guerra quando ci siamo messi insieme e ci fanno la guerra ora che ci lasciano. Andavo a trovare una casa. Perché mo' ci stanno pure divorzi gay, che ci vuole derubare ancora mercoledì di Champions. Sbrighiamoci, appauriamo un tizio a vedere la casa. Immagino ci sia la fila. Ah ma tu sei il tizio della stanza. Capisco perché devi far limonare da quel faggiano davanti a tutti guarda. Oh senti, pensa a tutte le volte in cui ho fatto il palo nei cessi dei locali mentre voi ve le cavate pure i pomelli delle volte. Eh no, è così, la verità amore mio. Non ci siamo già visti. Boh, può darsi. A te ti serve un apprendista, a lui serve un lavoro e io cerco qualcuno che mi paghi l'affitto. E poi Antonio è bravissimo in cucina. Ma che ne sai? Quando uno ci prova con te mi sento a disagio, non ci sono abituato. Fiumio, c'è 30 anni, non 70. Anche basta con il lutto. Tolliti quel palo dal culo. Tu sai che io ne faccio dieci a notte. Ne faccio undici, resto. Regola numero uno, non si parla mai degli ex. Quindi andiamo da te. Mai presentare i tuoi amici a quelli delle ciotte. Una volta e basta. Io cerco una storia seria. Sei tu? Sei tu chi? Sei tu in francese, vuol dire te ne devi andare. Next! Thomas? Antonio? Permesso? Te roda il culo da quando sto con Thomas. Oh, cazzi i tuoi? Perfetto. Ora direi che rimarremo soltanto trombamici. Fin da piccoli ci dicono che per essere felici bisogna essere in due. Poi cresce e ti fa le tue di regole. Prima di cercare l'amore devi trovare te stesso. nelor formulare ti ho un buon pubblico.